Buon pomeriggio dall'Ippodromo delle Capannelle, prima corsa del convegno di Erno Premio Dai Pra, un miglio per Pule di Due Anni, tutti all'esordio, sono in 8 al via. Prima fila per Zucchero Filato, Gaetano Di Nardo, Zelda Dete, Enrico Bellei, Zio Sauroget, Vincenzo D'Alessandro Junior, Zizi Top, Mario Manzone, Zaccon Gio, Giuseppe Pietro Maisto, Zeus e K, Insalchi al quale Lucio Becchetti sostituisce René Legati, Zelda, Zac, Francesco Pettinari. Seconda fila per numero 8, da sola, Zeda, dei pass. Rinunciano al lancio all'esterno, Zeus e K e Zelda, Zac, con cautela anche Zio Sauroget. Zelda Dete, scavalca Zucchero Filato, deve opporsi però a Zaccon Gio che preme all'esterno, più indietro, quarta posizione per Zizi Top. Lancio in 13,6 per Zelda Dete che respinge Zacon Gio, il quale si guadagna il posto nella scena dell'avversaria, terza posizione per Zucchero Filato. Poi c'è una netta spaccatura con il resto del gruppo capeggiato da Zizi Top, all'esterno del quale muove Zio Sauroget per guadagnare in breve la quarta posizione. Seguono ancora Zeda, dei pass, Zeus e K e Zelda, Zac. Ora lunghissima fila indiana perché ha accelerato la favorita Zelda Dete e completa i 600 iniziali addirittura in 43,5 sul mio cronometro. Sembra averla presa piuttosto allegra, la figlia di Varenne con insalchi Enrico Bellei, che ora cerca di moderarne l'ardore, ma il mezzo miglio è comunque in 59,6 sul mio cronometro. Con 5 lunghezze di vantaggio su Zacon Gio, che a sua volta precede nettamente Zucchero Filato, sul quale si affaccia ora Zio Sauroget. Nel frattempo Zelda Dete completa il giro in 1.14.8, inseguita sempre da Zacon Gio che cerca di ridurre il gap. Più indietro Zio Sauroget che cerca di scavalcare Zucchero Filato. I 1.002 di Zelda Dete sono in 1.29.8. Si viaggia ancora al di sotto del 1.15 con Zacon Gio che generosamente cerca di ricucire il gap, ma il vantaggio di Zelda Dete è ancora nettissimo. L'ingresso in retta d'arrivo, quando mancano 200 metri al palo, si distende nuovamente la Saurata Varenne, torna a guadagnare su Zacon Gio. In terza posizione emerge nettamente Zio Sauroget, Zelda Dete in un'altra dimensione, che va anche per riferire il tutto a media di rilievo. Sul palo Zelda Dete molto avanti a Zacon Gio che a sua volta precede Zio Sauroget, ancora più indietro il gruppo regolato da Zelda Zacc. 1.59.8 sul mio cronometro, ovviamente ufficioso, che significa media di 1.14.9. Un debutto davvero coi fiocchi dopo l'incertezza marcata in sgambatura dalla Saurata Varenne con i colori di Luigi Lettieri, il training di Gennaro Casillo e la guida ovviamente di Enrico Bellei, che rivediamo concludere ancora in piena spinta con possibilità di poter fare già meglio al prossimo impegno. Molto bene anche Zacon Gio che ha trovato sulla sua strada però un avversario superiore e positivo anche l'esordio di Zio Sauroget, i numeri 2, 5, 3.